Lavori duramente. Questo è un tema che mi tocca molto perché vedo tantissimi imprenditori e mi è successo anche a me in passato tantissimi anni fa di lavorare tanto, fare degli sforzi enormi ma ottenere oggettivamente pochissimi risultati. Il problema non è l'impegno o il tempo e l'energia dedicata al lavoro, il problema è che spesso vengono fatte delle azioni sbagliate per cui noi vogliamo ottenere un determinato tipo di risultato ma non facciamo le azioni corrette per ottenere quel risultato. Non ce ne rendiamo conto, nessuno ce lo fa presente e noi continuiamo a fare le stesse azioni che non portano risultati. Esempio stupido ma che rende bene l'idea, vuoi dimagrire ma tutti i giorni ti ingozzi di patatine fritte perché credi che sia la dieta corretta. Ora, questo esempio è banale perché è ovvio che tutti capirebbero che è una dieta sbagliata ma quando ci approcciamo a voler ottenere un risultato che ancora non abbiamo ottenuto noi non sappiamo quali sono le azioni corrette da fare, lo possiamo immaginare, lo supponiamo ma non lo sappiamo e spesso nemmeno le persone attorno a noi lo sanno, anzi le persone attorno a noi ci daranno dei consigli che secondo loro sono corretti senza alcun tipo di logica, senza alcun tipo di cognizione di causa che se ascoltiamo ci mandano pure fuori strada, quindi assolutamente sbagliata come strategia. Quello che invece dovremmo fare per velocizzare il nostro percorso e raggiungere più velocemente i nostri obiettivi è quello di chiedere consiglio a persone che hanno già ottenuto il risultato che noi vogliamo ottenere questo perché quella persona saprà già effettivamente quali sono le azioni che lo hanno portato in quella direzione quali sono le azioni che credeva fossero corrette da fare, che ha messo in pratica e poi ha scoperto non essere efficaci e probabilmente tra le azioni che stai facendo ce ne sono tante, quindi questa persona potrebbe dirti guarda, questo smettilo di fare perché non funziona, non serve nella tua situazione invece devi fare questo, questo e quest'altro e avere una guida che ti indichi quali sono le azioni giuste da fare per la tua situazione ti permette di velocizzare il tuo percorso veramente a livelli stratosferici quindi invece di continuare a battere la testa sperando che la cosa che oggi non funziona inizi a funzionare o cercando di arrangiarti in qualche modo per trovare una soluzione funzionante se hai la possibilità di rivolgerti a qualcuno che quel percorso l'ha già superato, fallo perché velocizzerà incredibilmente tutto il tuo percorso e siccome il tempo è la risorsa più importante che abbiamo, non sprechiamolo ma cerchiamo di utilizzarlo al meglio con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani, ciao aggiungo, dimmi la verità, se mi ascolti sei sicuramente una persona che non sta seduta sugli allori anzi probabilmente sei una persona che si dà da fare e ha veramente quel fuoco dentro e vorrebbe di più quindi stai veramente lavorando sodo per raggiungere i tuoi obiettivi e se questi obiettivi non stanno arrivando o ti sembrano sempre troppo lontani forse è arrivato il momento di chiedere un parere a qualcuno che quegli obiettivi l'ha già raggiunti ti costerà soldi? Sì, ma ti velocizzerà tantissimo quindi come dice qualcuno, i soldi comprano la velocità in questo caso accorcerai tantissimo il tempo necessario per ottenere ciò che vuoi quindi non perdere tempo e farlo subito con questo è tutto davvero e ti saluto, ciao!